Il tentativo è di non far svallare più con tutti i rischi del sonno, dell'alcol e così via le nuove generazioni ma farle divertire nella loro terra, nella loro vallata, nel loro territorio. Ci sono tre locali che hanno l'autorizzazione per fare pubblici spettacoli e che possono pareggiare il conto con i locali dell'Emilia Romagna che sono aperti come si sa fino all'alba. C'è anche qualche disagio però la comunità si sta via via anno per anno abituando che i giovani ci sono, che i giovani sono una risorsa straordinaria per il futuro anche di questa città nonché del pianeta e che non sono un problema perché se pensiamo che le nuove generazioni siano un problema sono il futuro di questo territorio, di questa città. E quindi un bel programma, oltre 40 iniziative, come sempre speriamo, insomma anche un bel investimento, un bel impegno anche finanziario ma crediamo che valga la pena. Ci sono quasi 40 iniziative e con soddisfazione che quest'oggi presentiamo questo programma, un programma che si sviluppa sull'intero territorio di Vallefoglia, quindi nelle frazioni, nel paese più grande, quello di Montecchio e nei nostri borghi storici meravigliosi. Quindi sono iniziative mirate a vario tipo di pubblico, insomma da una rassegna di commedia dialettale nella nuova piazza di fronte al comune a molte iniziative mirate ai giovani, agli adolescenti di questo territorio. Cinema all'aperto. Sono iniziative che riguardano e valorizzano anche ambienti sportivi piuttosto che l'ambiente stesso del nostro territorio. Quindi passeggiate, un wallscape con l'associazione Etra in quello di Sant'Angelo in Lizzola, piuttosto che una camminata e una merenda negli olivetti di Talacchio o l'iniziativa con le scuole, importante, di educazione ambientale, quella di Pugliamo il mondo. L'obiettivo di una città fortemente industrializzata come la città di Vallefoglia è quella di intrattenere la comunità, ma soprattutto le nuove generazioni attorno ai giochi d'acca della piazza, le compagnie dialettali sempre nella piazza del municipio, le bande, la musica, il ballo, la danza, tutte quelle cose che interessano le persone anche più adulte, ma soprattutto per esempio i bambini, il cinema è rivolto anche il pomeriggio, ma anche di sera, i bambini e le loro famiglie. E poi diciamo la valorizzazione dei tre borghi storici attraverso iniziative di jazz, di musica per le nuove generazioni, come Montefabbri, uno dei borghi più belli d'Italia, Sant'Angelo in Lizzola col bordo, la patria di Giovanni Santi. E poi diciamo l'allungare la stagione e integreremo anche questo programma con l'utilizzo nel periodo autunnale, ottobre-dicembre, del nuovo teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia, 336 posti, rivolto anche questo alle nuove generazioni perché sarà un auditorium per la musica, cinema, in territorio dove c'erano 10 cinema una volta, oggi è cambiato tutto, però rimane anche come si vede anche con l'esperienza con l'estate di Vallefoglia, il cinema molto apprezzato soprattutto dai bambini e le loro famiglie.